Un saluto dal Tg della mobilità, oggi si svolgeranno lavori tra le 21 e le 5 di rifacimento della pavimentazione della sede tramviaria di Piazzale delle Belle Arti. Le linee 2 bus e 19 nav nelle ore di cantiere saranno deviate, la 2 bus su via Gianturco, la 19 nav su viale delle milizie. E passiamo ai lavori sulla ferrovia Metromare. Sino al 5 maggio i cantieri non interferiranno con i normali collegamenti tra Roma e Ostialido. Da lunedì 6 maggio verranno però avviati gli interventi di completo rifacimento della linea aerea. Si renderà quindi necessaria la chiusura anticipata del servizio. L'ultima corsa della Metromare, dal lunedì al venerdì, partirà da entrambi i capolinea alle 21, mentre il sabato e la domenica l'ultima partenza sarà svolta regolarmente alle 23.30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie. Grazie.